Il campionato di Corti che adesso entra in campo Intanto Lanini che adesso è gasato dal gol Gran giocata, se ne va A Pinto Scusate, a Perna che viene ammonito dal direttore di gara Pinto di testa Perna allarga un po' troppo il gomito e si prende il secondo giallo Finisce la Gianna Erminio Partita che si fa dunque ancora più dura per i padroni di casa